Allora abbiamo cercato in questi, siamo ripartiti con qualche settimana di ritardo perché volevamo fare le cose per benino, perché c'è un problema che non è un problema di poco costo, quindi bisogna, così come la scuola, anche noi ci dobbiamo dare delle regole, poter poter mettere a loro di fare attività e di tornare a divertirsi perché vengono da un periodo veramente particolare, prima la scuola, poi le attività, poi il lockdown, quindi i ragazzi sicuramente hanno subito in questi mesi forse la cosa più brutta che potevano succedere, quindi noi dobbiamo ricominciare, dobbiamo ricominciare anche in un certo modo, quindi...